Mi chiamo Huck Scari. Io sono stato un ragazzo che è sempre disegnato e disegno ancora oggi. Un disegno è sempre un specchio di quello che si sente. Dieci persone si mettono davanti a un soggetto e il risultato sarà dieci volte diverso perché le persone sono diverse. E quello è il bello del disegno? Grazie a tutti.